Siamo in una parrocchia di Funo, siamo più o meno 180 bambini, 30 animatori, facciamo questi ragazzi da una ventina d'anni, prima con Don Francesco, poi oggi con Don Alberto è appena arrivato da noi. La particolare di questa parrocchia è che siamo sulla bocca di tutti, non so perché, siamo abbastanza famosi nella diocesi, tutti quando arriva Funo no Funo, no Funo, quindi insomma ci piace essere abbastanza famosi. Ci carica quando sono le giornate con tutte le altre parrocchie e soprattutto il giorno prima, prima di partire, i ragazzi sono proprio invogliati a fare queste giornate perché si sentono leader di questa cosa. fare sentire ai ragazzi tipo di 12-13 anni che stanno per diventare animatori ma sono ancora bambini questi ragazzi, essere molto responsabile. C'è un posto per tutti, dice la maglietta che oggi non ce l'ho, però insomma attenzione ai più piccoli, questo è un altro punto di forza dei ragazzi. Il ragazzo di 12 anni deve far giocare, deve aiutare il bambino di Otto, portarlo sull'arca, diciamo anche il bambino di Otto insieme a tutti gli altri, insieme ai più grandi e farlo giocare.